E' attesa per questa settimana la decisione del riesame sulla scarcerazione del terzo ragazzo indagato per lo stupro della 24enne nell'ascensore della stazione della Circonvesuviana di San Giorgio a Cremano. Per gli altri due presunti aggressori era già stata annullata l'ordinanza di custodia cautelare. Tra una decina di giorni si conosceranno le motivazioni alla base della decisione dei giudici. Intanto la 24enne di Portici, vittima della violenza, ha scritto una lettera per esprimere tutto il suo dolore e lo sconforto. Si sente vittima di una profonda ingiustizia, lei violentata e quelli che ha indicato come i suoi aguzzini in libertà. Bastano pochi minuti e ritorno col pensiero, si legge nella lettera. Erano attimi di incapacità a reagire di fronte alla brutalità e alla supremazia di tre corpi. Erano attimi in cui la mente sembrava come incapace di comprendere di totale perdizione dell'essere. La ragazza, che in un primo momento si era pentita di aver denunciato l'accaduto, dice ora di temere la vendetta dei tre giovani.